Musica Amici di Teleuniverso nuovamente, buonasera. La Regione Lazio, il viaggio del Regione Lazio verso il suo rinnovo, la scelta dei suoi nuovi amministratori. Ne parliamo in questo numero di Regionando verso le elezioni con Vanda Ceraldi, consigliere regionale del Lazio per il centrosinistra, buonasera. Buonasera. E con Mario Abruzzese, presidente del COSILAM, il Consorzio per lo Sviluppo del Lazio Meridionale e soprattutto candidato in pectore del PDL, buonasera. Buonasera. Cominciamo con le notizie di queste ultime ore. Le candidature nel centrosinistra, il dibattito è aperto, molti vorrebbero le primarie, qualcuno vorrebbe individuare da subito un nome autorevole. Nel centrodestra, Alemanno dice, lunedì ci riuniremo e decideremo, forse ufficializzeremo. Il nome che viene proposto è quello del segretario regionale dell'UGL Polverini. Berlusconi, in qualche modo, ieri sera ha confermato questo nome dicendo un altro nome che mi piaceva, era quello dell'ex europarlamentare Todini, ma mi ha chiesto di sollevarla da questa incontro. Mario Abruzzese, Polverini potrebbe essere un nome che vi va bene come candidato del PDL per la presidenza della Regione? Sicuramente sì, è un nome autorevole, anche se non è stato ancora deciso nulla, perché ormai conosciamo tutti come funzionano certi meccanismi. Quindi è giusto anche riequilibrare i pesi sul sistema Italia a livello regionale, quindi molto probabilmente potrebbe essere la Polverini nel Lazio, se in Campania ci sarà un candidato presidente di aria ex Italia e viceversa. Quindi potrebbe essere invece la non Polverini se nel Lazio viene indicato un candidato di aria forza Italia. Quindi diciamo che è un buon candidato, mi sembra che ieri sera Berlusconi ha espresso un gradimento su questa candidatura, ma tutto poi viene demandato per quanto ci riguarda a livello centrale tra il gabinetto politico di Fini, Bossi e Berlusconi, quindi su tutto l'organizzazione delle indicazioni dei candidati a presidente delle regioni d'Italia. Tra le varie cose oggi Alemanno ha detto, prima di ufficializzare questo nome comunque dobbiamo sentire anche i possibili alleati che non sono all'interno del PDL, il riferimento è all'UDC. Mario Abruzzese e la sua corrente di pensiero è più favorevole all'UDC dentro oppure si può andare avanti senza UDC? Ma guardi, io sono favorevole a qualsiasi tipo di accordo, però sono contrario ad un'alleanza a macchia di leopardo. L'UDC o sta da una parte o sta dall'altra. Non è pensabile fare un accordo nel Lazio con l'UDC e magari in Toscana l'UDC lo fa col centro-sinistra e poi magari in Lombardia lo rifà col centro-destra e in Campania col centro-sinistra. Quindi questa politica di non chiarezza non piace, quindi non piace gli italiani. È giusto che ci sia un chiarimento definitivo sullo scenario politico italiano, ma penso che anche Vanda Ceraldi sia d'accordo su questa impostazione, perché non è più pensabile attuare la politica dei due forni, cioè vincere continuamente e sempre. Non è possibile, questo non lo accetto, quindi se non ci sarà un'alleanza organica a livello nazionale, io sarei contrario, però conto poco, quindi il mio giudizio vale solo come opinione di messaggio nei confronti dei miei dottori. Però può essere utile appunto per gli elettori sapere come la pensa Mario Abruzzese, magari ottiene pure qualche simpatia in più proprio per questa scelta di coerenza. Come ogni amministrazione, l'amministrazione di Piero Marrazzo ha generato durante la sua attività luci ed ombre. Il centro-sinistra ha sempre rivendicato la grande lotta al deficit che è stato trovato in regione, il centro-destra ha sempre contestato invece alla regione Lazio una totale assenza di identità, di essersi mosso senza un grande progetto organico di sviluppo per tutto il Lazio. Mario Abruzzese, domandavamo quindi per cosa ricordare questa amministrazione regionale? Vanda Ceraldi ci ha detto i lati positivi, i lati negativi? Il centro-destra dice è mancata l'identità. Sì, è mancata una identità precisa perché quando Vanda Ceraldi dice che abbiamo messo in campo un piano di riorganizzazione della sanità senza dimenticare che dal 2005 ad oggi ancora non hanno approvato un vero piano di riordino, tant'è che ne stavano parlando in consiglio regionale e quindi senza il riordino della rete ospedaliera. Vanda, il problema vero è che se noi non, e ti riconosco una grande sensibilità in questo settore, quindi quando discuto di questi argomenti non vuole essere un attacco personale, però dal 2005 ad oggi non si può pensare di fare una riforma a quattro mesi dall'elezione, strapolando da questa riforma la rete ospedaliera perché se vogliamo entrare nel merito della sanità in questa provincia di Frosinone ci sono otto ospedali e mi dovete spiegare a cosa servono, cioè chi vuole l'ospedale nel proprio giardino oggi significa volere la morte sicura perché noi dobbiamo puntare a due, tre ospedali in questa provincia di eccellenza, però il problema vero è che la politica non si assume mai le responsabilità. questo è il tema centrale, tutto quello che si fa si fa esclusivamente per un discorso elettorale, tant'è che il piano in discussione estrapolava questo tipo di organizzazione per paura della ribellione da parte dei cittadini del territorio. Gli ospedali in eccesso secondo lei andrebbero chiusi o riconvertiti? Andrebbero parte chiuse e parte riconvertite. Quali chiuderebbe? Ma io metterei, sono molto onesto, io sono uno che parla con grande chiarezza, per me uno al nord, uno al centro, uno al sud, quindi è fuori discussione, poi andiamo a discutere nel merito, ma il problema della sanità, che non è un problema di Marrazzo, siamo chiari e seri, perché prima di Marrazzo c'era Storace, prima di Storace c'era Badaloni e c'erano sempre gli stessi problemi, il problema vero è di dare un taglio diverso all'organizzazione della sanità, vanda, perché fin quando noi e voi, fine prova contraria, nominate dei direttori generali che a sua volta addirittura non sono di questa provincia e questo è già una cosa vergognosa, la seconda cosa è che si portano le imprese di Napoli in questa provincia a lavorare in un'azienda che è la prima azienda della provincia di Frosinone perché non esiste in questa provincia un'azienda che supera i 5 mila dipendenti, quindi c'è solo l'azienda sanità. Terzo, si nominano i primari con i criteri che tu conosci bene, che spesso si nominano gli asini rispetto alle eccellenze che abbiamo, quarto, abbiamo un ospedale della provincia di Frosinone che è l'ultimo nella regione Lazio e quindi il problema dov'è? Il problema sta nell'impostazione generale, quindi o la politica capisce che deve dare un taglio strutturale e organizzativo alla sanità oppure ci prendiamo sempre in giro e diamo sempre un servizio carente ai nostri cittadini. Su questa cosa io non sono per niente d'accordo, ma non è un discorso riferito alla persona Ciaraldi, non ci penso minimamente, il problema è di impostazione di carattere generale, però voglio concludere anche il perché di questa negatività, così lei ha un'opportunità di fare una replica generale sui ritardi dei pagamenti di questa regione, la regione sta facendo fallire tutti, sta in ritardo, forse Vanda neanche lo sa, ma di due o tre anni di pagamenti, cioè le pubbliche amministrazioni saltano, le imprese saltano perché loro non riescono a pagare perché hanno un grande deficit strutturale di cassa e quindi bisogna in qualche modo metterci rimedio. Sull'avvio del PSR, dei piani di sviluppo, del programma 2007-2013, siamo alla fine del 2009, ancora dobbiamo liquidare un decreto per riporre i piani operativi regionali che non riusciamo e la regione non riesce a amministrare. Sì, ma concludo perché è importante, perché non è tanto una rissa tra Mari Abruzzese e Vanda Ciaraldi, non deve essere questo, la politica secondo me è un'arte nobile che dobbiamo noi uomini riportarla al centro del dibattito.